Prima di entrare nel blocco relativo alla dimensione profetica della consagrazione a Maria mi sembra necessaria una sintetica presentazione della dottrina mariana dei fondamenti sia a livello teorico che a livello pratico che stanno dietro a tutto il discorso che poi faremo seguire in modo che per tutti noi sia chiaro quando parliamo di consagrazione alla Vergine Maria di cosa stiamo parlando e poi la cosa più importante qual è il modo per poter concretamente viverla per poter concretamente essere a lei tutti i consacrati per poter fare questa presentazione prenderò in esame i due più grandi teorici ed apostoli di questa forma di devozione sono stati San Luigi Grignon de Montfort e San Massimiliano Maria Colbe San Luigi Montfort il santo di cui parliamo adesso è vissuto tra il 1600 e il 1700 morto nel 1716 non è stato il primo a parlare della consagrazione a Maria ma in lui si trova tutto quanto precedentemente era stato detto scritto in proposito soprattutto una nuova sintesi speculativo spirituale motivo per cui poi deve essere detto a ragione un vero profeta che ha saputo cantare il segreto di Maria della perfetta consacrazione alla Vergine Santa infatti è presente negli scritti del Monfort un fattore carismatico spiega il padre Stefano de Fiores che trasmette un'esperienza di alta spiritualità cristocentrico mariana accompagnata da prospettive ardite sul futuro della chiesa per quanto riguarda le formulazioni e le espressioni di cui San Luigi si serve nel suo trattato della vera devozione ovvero il libro aureo della consacrazione a Maria si trova una ricca terminologia che include parole come dono accoglienza affidamento servizio abbandono nelle missioni al popolo sintetizzava il tutto con un genio pastorale notevole presentando la formula spirituale di contratto di alleanza con Dio e facendo uso programmatico della formula giaculatoria mi do interamente a Gesù Cristo per le mani di Maria per portare con lui la mia croce tutti i giorni della mia vita in cui si evidenziano appunto le realtà chiave del dono totale diretto a Gesù Cristo dell'azione mediatrice di Maria Santissima della generosità nel portare la croce nella vita quotidiana innanzitutto che cos'è la consacrazione a Maria di cosa si tratta in breve potremmo si potrebbe definire come la perfetta donazione di se stessi alla Madonna perché lei disponga interamente di colui o colei che le si consacra dipendendo da lei come un piccolo bimbo dalla sua madre la consacrazione a Maria ha radici anzitutto nella sacra scrittura e l'evangelista san Giovanni che ci fa sapere che fu proprio Gesù il primo a consacrare a sua madre il genere umano quando dall'alto della croce le disse donna ecco il tuo figlio Gesù ha inoltre chiesto all'umanità di consacrarsi a Maria dicendo a Giovanni ecco la tua madre cosa a cui Giovanni rispose accogliendo Maria tra le sue cose più preziose è stata poi la Madonna in persona a chiedere con molta insistenza a partire da Fatima in poi la consacrazione delle persone delle famiglie addirittura delle nazioni intere al suo cuore immacolato perché questa richiesta perché questa esigenza perché Dio vuole che sia riconosciuta una cosa in effetti molto semplice cioè che tutte le grazie e i doni che egli fa agli uomini passano per le mani di Maria fare la consacrazione a lei vuol così essere un segno di riconoscimento di questa imprescindibile irrinunciabile funzione mariana e consentire a Maria di fare nella nostra anima nelle nostre vite anche nei nostri paesi nelle nostre nazioni nelle nostre società ciò che Gesù le ordinò dalla croce prendersi cura di noi al tempo stesso ci impegna da parte nostra ad accoglierla nel nostro cuore nella nostra vita interiore spirituale nelle nostre scelte cioè a mettersi alla sua scuola come un figlio fa nei confronti della propria madre che da essa impara letteralmente tutto a questo punto vediamo vediamo cosa ci dice san luigi grignò quali sono i punti chiave i concetti chiave della consacrazione alla madonna così come li presenta nel suo trattato della vera devozione potremo schematizzando dire quanto segue che la consacrazione a maria innanzitutto si qualifica come perfetta rinnovazione dei voti o promesse del santo battesimo questo è un concetto che sta alla base di tutto il discorso che sa luigi fa quindi perfetta rinnovazione dei voti delle promesse del battesimo perciò proprio perché ha una relazione con il battesimo che è la sorgente di tutta la vita cristiana e l'impegno fondamentale di tutta la vita del battezzato del cristiano non può considerarsi questa devozione mariana questa consacrazione come qualcosa di secondario di accidentale per il credente si tratta del pilastro fondamentale su cui il monfo struttura tutta la sua teologia spiritualità della consacrazione e gli spiega infatti nel suo trattato adesso cito san luigi che questa forma di devozione può benissimo definirsi una perfetta rinnovazione dei voti o promesse del santo battesimo ogni cristiano infatti prima del battesimo era schiavo del demonio poiché gli apparteneva nel battesimo di propria bocca o per mezzo del padrino e della madrina egli ha rinunciato solennemente a satana alle sue seduzioni alle sue opere ed ha scelto per padrone e sovrano signore gesù cristo al fine di dipendere da lui in qualità di schiavo d'amore e precisamente ciò che avviene nella presente devozione sempre san luigi che parla si rinuncia al demonio al mondo al peccato e a se stessi e ci si dà interamente a gesù cristo per le mani di maria e si fa pure qualche cosa di più nel battesimo si parla d'ordinario per bocca di altri cioè del padrino e della madrina e ci si dona a gesù cristo soltanto per mezzo di un rappresentante con questa devozione si agisce invece di persona volontariamente e con conoscenza di causa nel battesimo non ci si dona a gesù cristo per le mani di maria almeno in maniera esplicita né si dà a gesù cristo il valore delle nostre buone azioni perciò dopo il battesimo si rimane perfettamente liberi di applicare detto valore a chi si vuole o conservarlo per se stessi con questa devozione invece ci si dona esplicitamente al nostro signore per le mani di maria e a lui si consacra il valore di tutte le proprie azioni e qui termina la citazione dal trattato di san luigi questo dunque è il primo punto di fondamentale importanza nella presentazione fatta da san luigi della perfetta consacrazione alla vergine maria passiamo al secondo punto la consacrazione a maria stabilisce nella vera devozione a lei radica ecco nella vera devozione a lei e questa vera devozione spiega san luigi che si caratterizza caratterizza per cinque qualità la vera devozione a maria è interiore e tenera disinteressata santa e costante interiore perché fa evitare quell'esteriorismo farisaico che fa le cose esterne solo per farsi vedere ma invece si radica nella volontà nel cuore tenera perché affettuosa come un bambino verso le fusioni ecco che ha un bambino verso la sua mamma con tutta quella confidenza che fa parte anche di quella tenerezza fidiale disinteressata cioè servire la madonna per il fatto che lei merita di essere servita per la sua grande dignità indipendentemente se mi vengono meno dei beni da questo è chiaro che l'uomo in questo stato di cose pensa a questo tornaconto e in questo senso un tornaconto spirituale non è assolutamente sbagliato cioè noi ci consacriamo a lei perché è vantaggioso però disinteressata perché il primo motivo è veramente radicato nella persona di lei lei è come quale vergine madre scelta da dio nell'opera della salvezza per la sua grande dignità è degna di essere servita è santa perché fa imitare le virtù di maria san luigi ne elenca dieci ma potrebbero anche essere trovate altre comunque sono tutte le virtù che vanno imitate e poi costante non oggi si e domani no no alta allenante ma costante dunque la consacrazione dicevamo maria stabilisce in questa vera devozione a lei facendo eludere evitare le deformazioni del culto mariano anche di questo parla san luigi in un capitolo della trattato devozioni deformazioni che lui ecco sintetizza in queste devozione critica scrupolosa esteriore presuntuosa incostante ipocrita interessata anzi essendo la consacrazione il coronamento di ogni forma di devozione a maria da una parte inserisce nell'autentica devozione a maria di cui abbiamo parlato e dall'altra allontana il devoto da tutte queste falsificazioni che travisano la vera devozione a maria punto numero 3 con la consacrazione cosa avviene che la persona del consacrato si dona interamente e perfettamente a maria per essere per mezzo suo totalmente di gesù san luigi insegna che cito il trattato bisogna darle il nostro corpo con tutti i suoi sensi e le sue membra la nostra anima con tutte le sue facoltà i nostri beni esterni i cosiddetti di fortuna presenti e futuri i nostri beni interni spirituali vale a dire i nostri meriti le nostre virtù le nostre buone opere passate presenti e future bisogna darle tutto quanto abbiamo nell'ordine della natura e della grazia e tutto quanto potremo avere nell'ordine della natura della grazia o della gloria e ciò senza alcuna riserva nemmeno di un soldo di un capello e della minima buona azione punto numero 4 con questa consacrazione si offrono inoltre tutte le opere buone al nostro signore che è il fine ultimo della nostra consacrazione a maria gesù cristo dio per le mani però della sua santa madre in modo che questa amabile padrona dice san luigi in suo trattato le purifica da ogni macchia di amor proprio e dall'impercettibile attaccamento alla creatura che si insinua insensibilmente nelle migliori azioni le abbellisce ancora san luigi che parla ornandole dei suoi meriti e virtù e poi le presenta a gesù cristo e le fa accettare queste buone opere sempre da lui per quanto tenue povero sia il dono offerto a questo santo dei santi e re dei re perché san luigi continua quando gli si presenta qualcosa per le mani pure virginali della sua diletta lo si prende per il suo lato debole se è lecito esprimersi così allora egli non considera tanto la cosa che gli viene offerta quanto la sua amata madre il punto numero 5 è tutta una serie di effetti che produce la consacrazione e sono ancora presenti in maniera dettagliata anche nel trattato noi qui li elencheremo solo per questioni di tempo insomma questi effetti che produce la consacrazione sono davvero straordinari primo cito il trattato conoscenza di se stessi spirito di umiltà e confidenza in dio e nella vergine santissima secondo la santa vergine fa il consacrato parte della sua fede che sulla terra è stata più grande della fede di tutti i patriarchi profeti e apostoli santi terzo la vergine santa toglie dal cuore del consacrato ogni scrupolo e timore servile disordinato lo apre e dilata per correre sulla via dei comandamenti del figlio suo nella santa libertà dei figli di dio e per introdurvi il puro amore quarto la santa vergine colma il consacrato di una grande fiducia in dio e in lei quinto l'anima della santa vergine si comunica al consacrato per rendere gloria al signore il suo spirito entra al posto di quello del consacrato stesso per rallegrarsi in dio suo salvatore sesto per mezzo di questa pratica osservata molto fedelmente il consacrato da più gloria a gesù cristo in meno tempo che non in molti anni con un'altra pratica anche se più difficile san luigi enumera diverse ragioni per avvalorare quest'ultima sentenza ecco di tutti gli effetti questo sesto sembra quello più rilevante pensate quindi dare gloria a dio che il fine ultimo dell'uomo sulla terra ebbene per mezzo di questa pratica il consacrato da più gloria a gesù cristo in meno tempo che non in qualsiasi altra pratica e sostanzialmente san luigi elenca dicevamo vari motivi più determinante e questo perché avviene questa gloria che si dà dio in così poco tempo rispetto a tutte le altre perché la santa vergine a causa della sua grande carità accetta sicuramente di ricevere nelle sue mani virginali il dono delle nostre azioni e conferisce loro una bellezza e uno splendore meravigliosi quindi una sorta di prodigio che avviene no li offre poi lei stessa gesù cristo il quale senza dubbio ne risulta più glorificato che se noi gli offrissimo con le nostre mani colpevoli tra questi effetti il più eccellente che in certo modo li riassume tutti e questo va ricordato è la perfetta trasformazione in maria di immagine di cristo questo va ricordato perché poi ce lo ritroveremo nella formulazione colbiana quindi questo è il primo step che stiamo muovendo vedendo un po la teologia del monfort ma poi questo discorso della trasformazione in maria ce lo troviamo spiegato e anche approfondito da san massimiliano cosa dice san luigi su questa trasformazione i santi sono modellati in maria vi è una grande differenza tra lo scolpire un'immagine in rilievo a colpi di martello e di scalpello il farne una gettandola nello stampo scultori e statuari lavorano molto per produrre figure nella prima maniera ed è loro necessario molto tempo invece per modellare nella seconda maniera lavorano poco e le realizzano in pochissimo tempo sant'agostino chiama la versine santa forma dei stampo di dio che bella espressione stampo adatto a formare modellare degli dei chi è gettato in questo stampo viene presto formato e modellato in gesù cristo e gesù cristo in lui con poca spesa in breve tempo diviene dio ovvero deificato perché è gettato nello stesso stampo nel quale è stato formato un dio si tratta di pensieri altissimi eppure è proprio un effetto della consagrazione vissuta fedelmente quindi non sono solo non è poesia ma sono effetti avvengono dentro le anime ma poi quando sono profondi si manifestano qualche modo anche all'esterno perché il comportamento che cambia veniamo all'ultimo punto è almeno tra quei più importanti che mi è sembrato di poter cogliere con il trattato i san luigi la pratica interiore quindi cosa consista la pratica interiore di questa devozione in sostanza i san luigi consiste nel compiere tutte le proprie azioni per mezzo di maria con maria in maria e infine per maria per mezzo di maria cosa significa e adesso utilizzo le parole di san luigi stesso per mezzo di maria cioè non bisogna mai andare a gesù nostro signore se non per mezzo dell'intercessione di maria e del suo credito presso di lui non pregandolo mai senza di lei con maria cioè bisogna prendere la madonna come modello perfetto delle nostre azioni cioè affiancarcela guardarla come farebbe lei quindi fare tutto con lei ovvero imitandola in maria questo è un po più mistico può anche più difficile da cogliere san luigi la spiega così ci si deve abituare a poco a poco a raccogliersi dentro di sé per formarsi una piccola idea o immagine spirituale di maria cioè come un'inabitazione ecco in maria e maria in noi però è chiaro che questo terzo punto lo sia diciamo acquista pian piano con la pratica più semplice del fare tutto con maria e per maria cioè il quarto punto che adesso diremo per maria cioè in modo che essendo schiava di questa gusta regina dice san luigi bisogna che l'anima non lavori più che per lei fare tutto per lei a suo vantaggio per la sua gloria come fine prossimo e per la gloria di dio come fine ultimo per poterle compiere tutte queste nostre azioni più perfettamente per mezzo di gesù cristo con gesù cristo in gesù e per gesù abbiamo incominciato ad esplorare quindi i contenuti di questa consacrazione cosa essa è a livello più teorico e come si pratica ci aspetta di conoscere ancora qualcosa anche di molto bello attraverso il secondo maestro che accennavo in precedenza san massimilano colbe ma per questo ci ci vedremo ci sentiremo per un prossimo appuntamento grazie a tutti grazie a tutti Sous-titrage ST' 501 ...